Siamo con Gennario Di Caprio, sindacalista della CISL. Grave problema, quindi un cantiere che ormai da 20 anni è aperto, un cantiere per una scuola, quindi un cantiere comandato dalla provincia di Napoli. Gli operai da circa tre mesi non prendono una lira di stipendio. Innanzitutto che ci permetta, a nome dei lavoratori, ringraziare Teleruna per la grande sensibilità che dimostra verso i lavoratori. Guardi, questo qua è un caso veramente al limite della decenza, perché i lavoratori edili sono sempre costretti a pagare prezzi che non sono propri. La nostra categoria è una categoria che produce grandi opere, soprattutto per quanto riguarda i servizi ai cittadini, come questa scuola che è una scuola importante, che è rimasta prima, come lei ben diceva, da circa 20 anni. Però noi veniamo già da un disastro di un'altra azienda che era fallita, l'impresa che è subentrata, la Partenopea, ha acquistato il ramo d'azienda. Noi credevamo di migliorare da un'impresa fallita, invece siamo passati dalla padella alla brace. Sono quattro mesi che non prendiamo il salario. È già da un anno e mezzo che i salari li prendiamo sempre con costante ritardo, ogni 3-4 mesi. Lei sa bene che la crisi attuale, già quando i lavoratori lavorano ogni mese e prendono i loro salari, riescono ad arrivare a metà del mese. Si figuri quando i lavoratori sono 3 mesi che non portano i soldi a casa. Loro vivono di dramma, vivono di debiti e questa è una cosa vergognosa. Che anche le stesse istituzioni, quindi anche la provincia ha le sue responsabilità e si deve far carico, non solamente con propaganda, ma con fatti, perché questa scuola venga data ai cittadini. E concludo dicendo che sono quattro mesi che i lavoratori non hanno la materia prima, cioè non hanno un pioto da mettere, una penalità di pittura da mettere dentro le stanze e le future aule. Per cui questo qua, ripeto, è una denuncia che mi ha assumuto tale responsabilità che i lavori, soprattutto quando ci sono finanze pubbliche, devono essere fatti e completati.